ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo l'orologio che andremo a visionare oggi è il super seawolf war timer gmt orologio che fa parte della famiglia super seawolf di casa zodiac ossia i diver io ho recensito anche uno skin diver di zodiac ultimamente e che però va a riprendere il modello degli anni 70 della casa lo riporta ai giorni nostri rendendolo più contemporaneo con materiali al passo con i tempi e con lo stile che più o meno rimane lo stesso è una riedizione diciamo così la continuazione della specie io ho scelto questo modello qua con la ghiera nera ma sono presenti a catalogo anche quello con la ghiera blu e quello con la ghiera rossa quindi io ho preso quello un pochino più sobrio mi è stato messo a disposizione dell'amico giacomo della gioielleria pasquale domenici chiaramente di viareggio che è parte un ufficiale del canale concessionaria del marchio ed offre un trattamento di favore a voi che state guardando quindi chiamate e sentite il prezzo speciale che c'è per voi detto questo ho detto ho scelto la ghiera nera ma ci sono anche altri modelli che sono interessantissimi a dire il vero questo qua non è veramente proprio un war timer a giorno d'oggi si usa la parola war timer anche un pochino così per comprendere delle complicazioni che tali non sono perché in realtà world timer è una complicazione che in altra orologeria sarebbe prevederebbe il fatto che le ore delle città del mondo venga in automatico sul quadrante in qualche modo no invece in questo caso come nel caso del mido gmt world timer no è la ghiera esterna che va girata manualmente per poi scoprire gli orari dei fusi orari è un escamotage così e vengono chiamati world timer anche se in realtà non è propriamente adatto questo termine detto questo vi mostro l'orologio del giorno che oggi è questo simpaticissimo edox idrosub con il suo bel quadrante blu gli accenti arancioni il calibro sellita sv200 certificato cronometro e chi più ne ha più ne metta è un orologino che mi piace tanto uso piuttosto più spesso d'estate ma ogni tanto vanno indossati di rogi sul polso devono salire anche loro perché altrimenti sempre a stare nella scatola si sentono male soffrono di claustrofobia gli orrogi quelli meccanici la batteria non soffrono niente quelli si aspettano lì dentro e poi dopo vedrete va bene detto questo giriamo la camera guardiamo il nostro bellissimo super seawolf gmt world timer e poi ci troviamo qui come al solito per le considerazioni personali iniziamo dai risultati ottenuti dalle misurazioni sul campo diametro cassa 40.3 mm spessore 13.3 ingombro trasversale al polso 47.9 e in terasse ansa da 20 mm come spesso ultimamente capita si tratta di un orologio dalle dimensioni contenute ed adatte a qualsiasi polso un diametro di circa 40 mm che però è preso alla ghiera si tratta infatti di uno di quegli esempi di orologio nei quali la cassa è più piccola rispetto alla ghiera se infatti la misuriamo scopriamo che si tratta di 39 mm questo crea un leggero sbalzo che permette di poterla impugnare con facilità cosa che sembrerebbe agevolare la rotazione ma in realtà il grip è piuttosto basso e si fa fatica a girarla senza doverla riprendere più volte resta comunque il fatto che è proprio la ghiera a dare una certa personalità all'orologio sia per l'aspetto grafico che per le dimensioni ma anche la cassa presenta alcune particolarità degne di essere menzionate ad esempio la spazzolatura verticale del lato carur una scelta un poco differente dal solito che trova la sua ragione di esistere nel momento in cui si incontra con la satinatura sulle anse qui cambia completamente la direzione e la spazzolatura diventa longitudinale a dividere ci pensa una sbussatura lucida triangolare che tende ad allargarsi man mano che avanza verso il bracciale si tratta di finiture pregevoli che si combinano con un design cassa standard che vede anse ben presenti collegati al corpo cassa tramite un visibile angolo di incidenza insomma ci troviamo di fronte ad una cassa completamente opaca che trova gli unici punti lucidi nei biselli nella faccia corona ed appunto sul profilo ghiera quella ghiera che riporta 24 città che corrispondono poi ai 24 fusi orari monitorabili ma come funziona semplicemente è sufficiente impostare il quadrante in modo che l'orario gmt corrisponda a quello locale se sono le 16 metteremo la sfera gmt sul 16 con l'orologio così impostato basta ruotare la ghiera col fuso orario di parigi cioè il nostro e da quel momento leggere l'orario remoto in ogni città riportata devo segnalare che l'inserto ghiera è in vetro zaffero antigraffio una soluzione che ritengo utile ad evitare che le scritte possano un giorno deteriorarsi così come zaffero il vetro semicurvo che sovrasta il quadrante la differenza tra il nero dell'inserto e il grigio scuro del dial è un altro punto in grado di connotare decisamente l'aspetto globale dell'orologio anche perché a frapporsi tra questi due elementi c'è il bianco della scala 24 ore un'alternanza cromatica piacevole alla vista che non inficia la leggibilità generale in quanto il gioco sfere si pone bene in risalto rispetto al fondo soprattutto quella gmt che essendo di tonalità rossa ben si distingue dal resto devo poi spezzare una lancia a favore della geometria scelta per una volta si è evitato di utilizzare la solita freccia per passare ad una forma a bastone tanto sobria quanto funzionale soprattutto perché la lunghezza ridotta non crea interferenza con gli indici rimane ben distante e distinguibile indici che vanno riprendere quello stile 70s proprio del suo antesignano e che confermano la bontà delle finiture finora viste è infatti presente una sottile spazzolatura che viene ripresa poi anche dalle lancette ore e minuti un piacevole abbinamento sulla stessa lunghezza d'onda si nota poi che ognuno di quegli indici se vogliamo un po glamour è doppiato da un piccolo segmento rettangolare che ha la funzione di renderlo riconoscibile al buio in quella situazione quasi ogni elemento del quadrante mostra una reazione luminescente gli indici le sfere quella gmt ed addirittura quella dei secondi con il suo lollipop rettangolare sono tutti di dimensioni contenute ma svolgono il proprio dovere anche se avrei evitato la luminescenza su quella dei secondi per non creare confusione al colpo d'occhio ruotando l'orologio poi andiamo a scoprire il fondello semplice nelle finiture quasi essenziale appare avvitato al corpo cassa caratteristica che fa il paio con la corona a vite e che conferisce al sistema una resistenza alla pressione di ben 20 atmosfere all'incirca pari a quella presente a 200 metri in profondità in condizioni statiche ovviamente e al di sotto cosa anima l'orologio trattasi del soprod c 125 calibro che abbiamo visto recentemente sul concordia di charlie paris e che è uno di quelli di fornitura che viene più spesso utilizzato soprod produce in svizzera fa parte del gruppo festina ed è un terzista rinomato tra i marchi minori questo c 125 è un calibro gmt che vede la sfera delle 24 ore regolabile in maniera indipendente in modo da poter indicare il secondo fuso orario senza modificare l'ora locale impostata il cosiddetto gmt office non rimane che parlare del bracciale esattamente identico al precedente super seawolf che ho recensito in precedenza un design a tre maglie piuttosto neutro che non brilla per originalità che però viene impreziosito dalla scelta di realizzare quelle scanalature laterali che almeno hanno il merito di renderlo identitario per questa serie di modelli chiaramente apprezzo la totale opacità della finitura ed anche la qualità dei materiali utilizzati soprattutto nella chiusura che non cade nell'ovvietà di riproporre quelle clasp di simil fornitura che spesso vediamo qui la personalizzazione è evidente con quel foro ovale che accoglie lo scatto per la chiusura e il logo inciso che dà la forma al fermaglio anche le finiture sono eccellenti grazie soprattutto a quel bisello lucido che la percorre per tutta la sua lunghezza per quanto riguarda il lato regolazioni troviamo i quattro classici forellini e soprattutto lo sgancio rapido delle spring bars sempre utile e meritevole di citazione possiamo tornare presa diretta per le considerazioni finali la ghiera poco manovrabile forse il punto debole più importante e forse anche l'unico non ne vedo altri diciamo che nel video avete visto con i guanti facevo fatica a manovrarla ma vi assicuro che anche a mani nude perché ho provato non è così semplice utilizzarla bisogna faticare un pochino ma d'altronde a chi serve la ghiera girevole negli orologi all'1% della popolazione mondiale perché nessuno utilizza però sappiate che se vi mettete a giochi chiare non se ci avete il tic che andate in attesa dal medico in sala d'attesa e fare i giochini con la ghiera e con quella lì non ci riuscite perché scivola scivola dopo vi imbestialite quindi questo è l'unico svantaggio poi per il resto i punti deboli i punti forti ci sono lo stile design soprattutto la qualità delle finiture buona buona qualità delle finiture e a proposito della ghiera che è zaffero o almeno un punto positivo sulla ghiera ce l'abbiamo cioè è ricoperta da uno strato di vetro zaffero che la rende praticamente antigraffio questo è un lato positivo no sempre alluminio ceramica zaffero interessante questa cosa lo comprerei questo orologio si lo comprerei però nella versione con la ghiera rossa che gli dà un pochino più di personalità io ho scelto questo qua nero perché la sobrietà regna sovrana nel mio canale no come me sono sobrio gli orologi che porto sono sobri però in realtà quello che comprerei sarebbe quello con la ghiera rossa che ha più personalità è più particolare come d'altronde mi piacciono quelli con la ghiera rossa un po in tutte il tudor black bay con la ghiera rossa mi piace di più del tudor black bay normale il vecchio longin idroconquest con la ghiera rossa con i numeri arabi lo preferisco a quello con la ghiera nera per esempio eh ghiera rossa anche in questo caso sceglierei poi fate vobis io avevo messo di tutti gli ingredientini no tutte le cose le fotografie le cose come al solito voi decidete pensate mumble mumble e poi decidete cosa fare c'è una marea di orologi perché dovete incistarvi su uno no boh mi sembra di aver detto tutto vi ringrazio per essere arrivati fino qua spero vi sia piaciuto il video se così non fosse ce ne faremo una ragione passeremo al prossimo subito velocemente e vi ricordo gli appuntamenti fisiche come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love grazie a tutti Grazie a tutti.